Sonoff Power Ring in azione qui nel mio smartphone con l'applicazione EwiLink in diretta per poi arrivare a EwiLink Cast nel vostro tablet. Ora vi spiego dall'inizio come avere questo risultato. Salve a tutti signori io sono Lorenzo e questo è il mio canale Spertone benvenuti bene oggi sono felice perché mi è arrivato qualcosa di Sonoff qualcosa per rendere la mia casa sempre più smart e sempre più tecnologica ringrazio Sonoff per avermi inviato questo prodotto che è molto particolare che cos'è è un misuratore di potenza passivo quindi non è che devo andare con i fili dentro perché lui ha una pinza amperometrica che va a misurarmi direttamente alla corrente quanto stiamo consumando registrandomi il tutto grazie all'applicazione EwiLink quindi adesso io vorrei farvelo vedere farvi vedere che partiamo dall'inizio perché per me è il primo prodotto di Sonoff ho scaricato l'applicazione EwiLink nel cellulare e poi EwiLink Cast direttamente nel mio tablet e andiamo a vedere come funziona per me è una novità così magari anche i problemi che posso trovare io che è una novità li potete trovare anche voi per chi non è pratico o non è esperto come lo sono io non sono un elettricista però è alla portata di tutti e quindi adesso andiamo a vedere come funziona andiamo a vedere cosa troviamo dentro come collegarlo e come poi lo vediamo a schermo bene quindi adesso andiamo ad aprirlo e vediamo cosa c'è dentro eccoci qua quindi partiamo dalla nostra scatola vedete qui già viene messo l'antenina del wifi questa è la pinza amperometrica che adesso andiamo a vedere vediamo che lavora con google home e anche con alexa quindi siamo coperti in un buona percentuale bene andiamo a vederlo un attimo eccoci qua apriamo la nostra scatolina qui ci ricorda che dobbiamo scaricare giù l'applicazione EwiLink per lavorare assieme qua abbiamo il nostro prodottino che lo vediamo così con il nostro display a doppia cifra il tastino per fare la connessione e adesso andiamo a provare assieme il proiettore non ripete per me la prima volta il cappuccetto che va qua dobbiamo metterci l'antenina qui è il plug dove andrà a collegarsi la nostra pinza amperometrica che vediamo qua e qua dietro abbiamo la barra per metterlo sia su un quadro din che come farò io oppure possiamo anche fissarlo a un mobile oppure nel nostro muro dove vogliamo metterlo qui abbiamo il codice QR a schienalizzare con l'applicazione per associarlo e poi qua sotto vanno messi ci sono una morsettiera dove vanno messi appunto i nostri cavi che adesso andiamo a vedere come è fatta dentro abbiamo delle istruzioni molto veloci in teoria dovrebbe essere tutto molto semplice questa è la nostra pinza amperometrica adesso andiamo ad aprire eccola qua ha un bel spessore perché guardate ci passa un dito tranquillamente quindi potete mettere cavi di spessore molto elevato e come vedete qui c'è p1 verso p2 quindi il senso se noi dobbiamo andare il cavo arriva dal contattore da questa parte lo facciamo passare di qua per andare al nostro interruttore quindi il cavo che arriva principale deve fare questo senso qua da da dove arriva al carico verso da questa parte chiudiamo il tutto qui abbiamo la nostra antennina wifi che va collegata appunto qua sopra così ok e questa va anche a piegarsi ok così noi possiamo metterla così e se non abbiamo spazio dove metterla possiamo piegarla e metterla dritta là poi non vedo niente altro quindi adesso inizia il bello dell'associazione di tutto quello che vediamo e sono contento perché da provare qualcosa di nuovo che non ho mai fatto qualcosa di sonoff come va eccoci qua abbiamo tolto il nostro coperchietto si presenta così la nostra mossettiera ln com no allora ln è la fase e il neutro che qui andiamo a mettere di solito marrone e nero e qui andiamo a mettere ln che è neutro che di solito è azzurro qui ln è un contatto pulito che possiamo comandare direttamente dalla nostra applicazione e quindi io adesso non andrò a collegarlo gli do solo l'alimentazione facciamo l'associazione e poi vediamo come va quindi adesso prendo il mio cavo che logicamente non è collegato alla corrente vado a mettere come abbiamo detto ln qui quindi il blu lo mettiamo in questa posizione qua e vado a chiuderlo anzi sono già chiusi per andare ad aprirli andiamo a aprire tutto quanto vedete qua come è fatta la morsettiera lei si apre andiamo a aprire anche questo qua che è la fase messa come l di solito è marrone o nero allora adesso noi andiamo a prendere il nostro cavo non servono cavi di sezione molto elevate perché come abbiamo visto il consumo è di 2 watt quindi i cavi possono essere anche di sezione minima andiamo a piegarli un po così riprende meglio e andiamo a metterli dentro qua qui chiudiamo la morsettiera controlliamo che non scappi niente e qua tutto ben messo e qui andiamo a collegare il nostro neutro che come torno a ripetere di solito è blu e quindi colleghiamo il nostro neutro molto bene dopo vogliamo essere pignoli e chiudere la scatolina chiudiamo il tutto e così siamo tranquilli adesso proviamo a dare un po di corrente mi stacco la corrente e vedete che la corrente me la misura già benissimo quindi adesso che cosa mi dice lui mi dice che è pronto per la connessione vado nel mio cellulare lo sblocco metto ewi link che è la nostra applicazione anche per me è la prima volta quindi sarà tutto in diretta tutto nuovo premo il tasto più aggiungi dispositivo anzi facciamo scansiona così scansioniamo il nostro prodotto eccolo qua questo codice qr lo trovate sul libretto delle istruzioni del prodotto qui si presenta così e mi spiega come è fatto il nostro prodotto quali sono le funzioni faccio aggiungi device qui mi spiega come collegarlo next premo il tastino qui per 5 secondi ok adesso qui lui ricerca lampeggia veloce sì dove voglio collegarlo io adesso metto nel mio wifi un attimo la password ok connessione un secondo ci ha messo e me l'ha già trovato il mio prodotto faccio completato adesso questo interruttore qui serve appunto per accendere l'interruttore qui di uscita facciamo fare così si sente che fa lo scatto e va e così è normale premo il tastino qua e qui posso sempre accendere quel formato interruttore o spegnerlo e qua dovrei andare a vedere i consumi adesso io vado a mettere la pinza perometrica che poi dovrò collegarlo a un cavo che adesso qui non ho o magari lo collego al fotovoltaico ci sto andando per provare un cavetto per vedere quanto fa quindi collego questo qua vedete lo metto qui metto la mia pinza perometrica eccoci qua sono 640 650 630 640 2,7 ampere 2,6 io adesso l'ho collegato alla corrente adesso io provo ad aprire qua vediamo se è proprio in diretta o se c'è un po' di 4,59 watt ah questo è il consumo che è di oggi 640 650 640 650 vedete è quasi in diretta 641 ha un ritardo di 2 secondi 3 circa comunque molto molto valido sì bene avete visto quanto ci abbiamo messo cioè è veramente semplicissimo quindi dopo io vado a collegarlo al mio quadro dove mettiamo tutto quanto era giusto per associarlo e farvi vedere come si associa il dispositivo beh vi faccio vedere un attimo come appare eWeLink direttamente nel nostro praticamente nel nostro computer vi collegate a web eWeLink vedete qui in alto c'è scritto lo collegate e in automatico quando voi logicamente dovete aver fatto un account lo aggiungete dall'applicazione eWeLink e ve lo trovate qui adesso io questo dispositivo è fatto così non l'ho ancora messo da nessuna parte soggiorno camera devo un attimo organizzarmela poi premo il tastino qui scena e posso organizzare scena qui invece è la configurazione di eWeLink Cast vedete con questo tastino qua andiamo a mettere eWeLink Cast che si apre così e poi qua posso aggiungere i dispositivi io adesso ho messo consumo casa faccio così posso andare a modificarlo vedete seleziono dispositivi e posso nominarlo come voglio seleziono scene grafici qua posso andare a vedere consumo energetico eccetera oppure impostazioni colore dello sfondo se lo voglio azzurro verde io metterai verde siamo tutti più green dai facciamo così facciamo salvare e poi mi troverò di sicuro anche nel mio tablet questa cosa qui che di sicuro sarà modificata beh è veramente semplicissimo intuitivo questa applicazione eWeLink Cast è veramente molto molto semplice bene ma che cos'è questa eWeLink Cast è una nuova applicazione che la possiamo collegare al nostro tablet non funziona per smartphone al momento funziona solamente per i tablet e quindi possiamo usare il nostro tablet come monitor quindi premo vedete questa è l'applicazione eWeLink Cast premo eWeLink Cast e mi si apre la mia schermata quella che prima ho trasformato in verde dal computer me la ritrovo già qua vedete che qui ho appunto consumo casa qui posso andare a vedere il mio account e poi ci sono varie funzioni bisogna attivare il servizio che è a pagamento per un anno di eWeLink quindi eWeLink Pro in modo da avere eWeLink Cast e posso andare appunto a vedere sul mio tablet adesso vedete la configurazione così perché torno a ripetere è il mio primo prodotto che ho messo di Sonoff qui mi ritrovo la mia applicazione posso andare a scherzare il monitor e vedere quanto ho consumato quanto sto consumando e qui c'è sempre il tastino per accendere che vi ho fatto vedere prima quindi posso mettere ore o giorno quindi 21.04 in questo caso abbiamo un kilowatt e 18 ore e siamo sul nostro applicazione quindi molto semplice anche questa applicazione qua facile si collega tutto e si aggiorna tutto in automatico è velocissimo veramente ben fatto secondo me bene siamo alla fine di questo video e se vi interessano altri video di Sonoff iscrivetevi al canale così magari vi arriva la notifica quando esce un nuovo video iscriversi è gratuito a voi non costa niente però a me aiuta tantissimo e mi aiuta anche a portare questi video perché nascono delle collaborazioni che così posso continuare bene signori iscrivetevi al canale è gratuito torno a ripetere mettete un super like e attivate il tasto delle notifiche se non volete attivare il tasto delle notifiche va bene lo stesso non verrete disturbati quando arrivano i nuovi video però almeno iscriversi quello si molto molto importante grazie a tutti e arrivederci grazie